Buongiorno a tutti, mi sentite? No? C'è un po' di rimbombo, sento. Là in fondo siete lontanissimi, io spero di parlare il più forte possibile. Dubito che da là in fondo riusciate a vedere benissimo le immagini, ma non importa perché comunque non c'è niente di scritto nelle mie slide, sono solo immagini generali che vi faccio vedere. Allora, gli organizzatori di questa bellissima manifestazione mi hanno chiesto un compito difficilissimo, direi quasi impossibile, quello di parlarvi di come nascono i popoli, ammesso che si sappia esattamente cosa sono i popoli, che si abbia una definizione corretta. Come diceva professor Carlo Penco, che ringrazio molto per la presentazione, il mio punto di attacco, di approccio sarà di tipo evoluzionistico. Quindi discuterò insieme con voi dei tempi profondi dell'evoluzione, del tempo lontano. Qualcuno di voi ha seguito anche l'intervento precedente di Marco Aime? Alcuni sì. Ecco, io rispetto a quello che vi ha detto il collega amico Marco Aime, faremo tutto l'antefatto adesso, cioè che cosa è successo prima di quella che chiamiamo storia con la S maiuscola. Farò riferimento in modo molto semplice a ricerche recenti degli ultimi due o tre anni perché vi farò vedere una cosa che a me appassiona molto, cioè di cui tra l'altro se vi interessa discuterà in questo festival anche oggi pomeriggio Luigi Luca Cavallisforza che è stato uno dei principali protagonisti di alcune delle ricerche di cui vi parlerò io oggi. Perché in questo campo, nel campo dell'evoluzione umana, il quadro di riferimento negli ultimi tre o quattro anni è cambiato radicalmente. Avverbio da usare con prudenza nella scienza ma in questo caso direi che è azzeccato perché rispetto a quello che pensavamo sulla nostra storia profonda, su come sono nate le popolazioni umane, qualche anno fa oggi è cambiato radicalmente, è cambiato il quadro, è cambiato il paradigma di riferimento e vedrete, ecco perché credo ci sia una stretta pertinenza anche con il tema che è stato scelto quest'anno per questo festival, per questa manifestazione, vedrete che la parola chiave che userò è proprio movimento, è proprio spostamento nello spazio. Perché? Primo punto che voglio sottolineare con voi è questo. Quando noi parliamo di evoluzione e la interpretiamo anche in termini teorici generali, siamo portati intuitivamente a pensare che l'evoluzione sia una storia che si svolge soltanto nel tempo ed è ovvio, è una storia che riguarda le trasformazioni degli esseri viventi nel tempo, le genealogie, le parentele, antenati comuni, discendenti, cugini e così via. Ma vedrete che quello che è cambiato negli ultimi anni è che abbiamo imparato, che ci siamo accorti, che avevamo abbondantemente sottovalutato l'altra metà della storia, che non riguarda soltanto il tempo, il dispiegarsi diacronico degli eventi evolutivi, ma riguarda lo spazio, lo spazio fisico, lo spazio materiale, lo spazio geografico in cui l'evoluzione è avvenuta. E per farvi capire in modo intuitivo questo concetto, guardate questa immagine, immagine famosissima, è un'immagine che è comparsa all'inizio di tutti i dibattiti evoluzionistici, è la famosa copertina del libro di Thomas Henry Huxley, il famoso mastino di Darwin, quello che difese con grande tenacia le idee darwiniane, che scrisse prima di Darwin un libro sulle origini dell'uomo e in questo libro, vedete, usa questa copertina in cui in sostanza Homo sapiens, noi, è all'estrema destra, stiamo camminando eretti e dietro di noi c'è una sequenza di specie che ci hanno preceduto. Ora, cosa c'è che non va in questa immagine? O meglio, cosa c'è che ci piace e che non ci piace? È un'immagine che ha avuto un grandissimo successo, è un'immagine lineare dell'evoluzione, tecnicamente si chiama ana genetica, che vuol dire un processo evolutivo che avviene su un unico binario, come una scala a pioli, dove le specie che si succedono nel corso del tempo sembrano essere appunto in un processo di sostituzione permanente. C'è una sola specie per volta, quella che viene dopo nel tempo, è sempre più umana, sempre più intelligente, sempre più simile a noi, sempre più adatta, finché l'evoluzione produce il suo apice che è Homo sapiens. Se volete delle versioni leggermente diverse di questa fortunata e al contempo molto misleading, che produce un sacco di fraintendimenti questa immagine, guardate qua, questi siete voi che andate a una conferenza come questa sull'evoluzione umana, è stata usata dappertutto, si usa nelle pubblicità, è diventata una sorta di icona parascientifica, nata in campo evoluzionistico e poi è diventata famosa per tutt'alte ragioni, ce n'è un intero catalogo, la migliore di tutti è in assoluto questa, secondo molti miei colleghi evoluzionisti, perché questa è la parodia di questa evoluzione lineare e progressiva dell'uomo proposta da quello che scrive i Simpson. Guardate che non è un caso, non è affatto una circostanza contingente, perché quello che scrive i testi dei Simpson è Matt Goering che ha fatto un PhD ad Harvard con Steven Jay Gould e quindi è uno che ne sa parecchio di queste cose e ogni tanto si diverte, ha cambiato mestiere ovviamente, ha un reddito anche decisamente diverso da me e dai suoi colleghi adesso e ogni tanto se seguite i Simpson vedete che lui ci mette dentro molti riferimenti ai dibattiti sull'intelligent design, sull'evoluzionismo, sulla bioetica, perché si diverte a ripercorrere alcune delle sue storie che ha studiato. Quindi questa evoluzione che culmina in Homer Sapiens, ora uno scienziato che ha avuto una grande influenza sulla mia preparazione si chiamava Steven Jay Gould, purtroppo scomparso giovanissimo nel 2002, dieci anni fa, faceva sempre vedere queste immagini a lezione e diceva guardatela bene perché questa è un'immagine che va bene al di là della scienza, lui diceva, questa è una grande iconografia della nostra speranza. Speranza non è un termine usuale nei dibattiti scientifici, cosa voleva dire Gould? voleva dire che in fondo dietro questa immagine ci sono grandi aspettative, è un'immagine persuasiva perché ci dà la speranza che la storia dovesse necessariamente portare a Homo Sapiens, cioè una specie bipede che ha perso il pelo, con un cervello cresciuto parecchio e così via. Iconografia della speranza, quindi l'idea che l'evoluzione avvenga con una sola specie umana per volta, vedete che in questo tipo di ricostruzioni lo spazio non ha nessun ruolo, è soltanto una genealogia e questo è proprio il suo difetto principale, quello di farci vedere l'evoluzione soltanto come una successione di adattamenti, di forme nel tempo, come se tutto questo fosse avvenuto nel vuoto, nel nulla. La prima cosa che vi faccio notare è questa, se voi guardate questa immagine, ancora una volta, e guardate questa che vedete qui in questo taccuino, questa è una pagina celeberrima, è la pagina in cui Darwin per la prima volta nei taccuini descrive da una rappresentazione dell'evoluzione. Notate una cosa, potremmo fare un esercizio insieme e ci arrivate in pochi minuti, notate che sono due immagini completamente diverse, quindi alle origini della spiegazione evoluzionistica c'è un modello che si chiama modello arboriforme, branching evolution, c'è un'evoluzione per ramificazione, che produce alberi, quindi con i ramoscelli nella metafora che sono le specie, uno è l'antenato comune e poi vedete che l'evoluzione procede per separazione, moltiplicazione, estinzione di forme, è una storia molteplice, è una storia cespugliosa, piena di rami, di ramoscelli, di diversità, non è affatto una scala, non è affatto una rappresentazione lineare come quella che vi ho fatto vedere prima. E questo è il primo dato interessante perché vi fa vedere che quell'immagine così fortunata che vi ho descritto prima è stata fin dall'inizio una eccezione alle normali spiegazioni evoluzionistiche. Questo è interessante, cioè gli stessi scienziati hanno ritenuto di fare una eccezione nel caso dell'evoluzione umana, laddove invece nel caso di tutte le altre forme viventi hanno sempre usato normalmente dei modelli ad albero, dei modelli cespugliosi. Questo ci fa pensare sul fatto che quando anche nella scienza, quando si tratta di ricostruire storie evolutive che riguardano noi, Homo sapiens, abbiamo qualche pregiudizio forse o ci siamo portati dietro per un po' di tempo dei pregiudizi. L'altra immagine che vi faccio vedere qui non mi interessa assolutamente entrare nel merito ma prima vi ho fatto vedere che storicamente c'era già la confutazione fin dall'inizio di quel modello ma oggi se prendete un paper, questo è uscito su Science un anno e mezzo fa, molto bello, e guardate come gli evoluzionisti effettivamente ricostruiscono le storie filogenetiche, si dice, cioè delle parentele di esseri viventi ottenute attraverso le comparazioni morfologiche e molecolari, vedete che è una storia cespugliosa, esattamente come l'albero di Darwin che vi ho appena fatto vedere, tant'è vero che ancora adesso questo modello si chiama albero filogenetico, quindi è rimasta anche la stessa metafora. Voi siete, noi siamo uno degli ultimi ramoscelli rimasti in questo cespuglio, basta partire da dove siamo arrivati noi, andare indietro e vedi che incontri tutti gli antenati comuni che noi abbiamo avuto nel corso del tempo con tutte le specie con noi più o meno imparentate. Quindi se tu vai indietro trovi circa 6 milioni di anni fa l'antenato comune con gli scimpanze, 8 milioni di anni fa quello con i gorilla, un po' di tempo prima trovi quello con gli oranghi, eccetera. Adesso se fate uno zoom, fate una visualizzazione, questo è lo schema generale di tutti i primati, adesso andate dentro a vedere quello che è successo, e qui è il punto su cui mi fermo un minuto, quello che è successo tra quando è vissuto l'antenato comune tra noi gli scimpanze, 6 milioni di anni fa circa, e oggi, 2012, vedete che dentro questa storia ci sono state più di 20 specie. E questa è un'immagine che è radicalmente diversa da quello schema lineare che vi ho fatto vedere prima. Non è vero che c'è una sola specie per volta, ci sono sempre tante specie per volta, c'è vedete un'esplorazione di possibilità con specie suddivise in vari generi, quelli rossi che vedete lì in mezzo sono le ostalopitecine, quelle che abbiamo studiato tutti a scuola, lussi, tanto per intenderci. Questi violetti sono un gruppo nuovo che è stato battezzato qualche anno fa, quelli indietro con un sacco di punti di domanda sono le prime forme di ominini, si dice, che non sono state ancora ben classificate, poi vedete quelli azzurri sono invece i rappresentanti del genere omo, cioè il nostro genere. E già solo dentro lì vedete che ci sono, questo è uno schema peraltro semplificato, dentro lì ci sono probabilmente più di 10 specie umane differenti. Quindi vedete che è un modello completamente diverso. E questo è lo schema che noi oggi usiamo per ricostruire la storia dell'evoluzione umana. Anche qui però finora è cambiato parecchio, è diventato un modello molto più sofisticato, molto più ricco di informazioni. Vi faccio presente una cosa metodologica importante, lo schema di prima era molto semplice, persuasivo, ma era sbagliato, e conteneva poche informazioni e non c'erano punti di domanda. Questo è un modello molto più ricco di informazioni, molto più preciso, ma anche pieno di punti di domanda. E questo è interessante metodologicamente perché più noi impariamo cose sul tempo profondo dell'evoluzione umana, più si aprono nuovi interrogativi, nuove domande. Questo non deve scandalizzarci, non è una cosa negativa, è un fatto anzi positivo. Per esempio, noi oggi, con i dati più precisi che abbiamo, non siamo più sicuri del punto in cui ha avuto origine il genere Omo. Non sappiamo se ha avuto origine in Etiopia, da parte settentrionale dell'Africa, oppure in Sudafrica. Nell'incertezza, per ora, mettiamo un punto di domanda. Quindi non conosciamo l'antenato comune di tutte le forme del genere Omo. Qualche esempio, questo è di come si lavora oggi, in modo completamente diverso dall'immagine iniziale che vi ho fatto vedere. Questo è un reperto eccezionale che è stato comunicato nel 2009. Per darvi l'idea della sua importanza, vedete che si è preso due copertine di science, che è una cosa che per una scoperta scientifica vi assicuro che non succede mai. Due copertine di science, la prima volta con 11 articoli dentro, e la seconda volta è stata scelta come copertina di fine anno per la scoperta più importante di tutto il 2009. È un nostro potenziale antenato comune, si chiama Ardi, Ardipithecus ramidus. Adesso non c'è tempo di farne l'analisi, ma se voi lo guardate vedete che è un mix molto particolare di caratteristiche scimmiesche. Guardate le braccia come sono lunghe, guardate l'alluce come è divaricato, tipiche caratteristiche arboriformi, da adattamenti arboriformi, però è perfettamente bipede, con un bacino molto in linea, è una cosa strepitosa, e la faccia pure molto piatta. E quindi si dice oggi, con una metafora molto interessante, è un mosaico di caratteristiche arcaiche, cioè più antiche, e di caratteristiche avanzate. Però anche qui, e adesso c'è la svolta importante che voglio sottolinearvi, se ci fermiamo qui, siamo sempre nel solito tipo di discorso, cioè forme, caratteristiche esteriori, tempo, trasformazioni. La cosa importante è fare questo passaggio, cioè guardare dove stava questa specie, fisicamente, geograficamente. Per esempio vedi che stava in questa vallata dell'Etiopia centro-settentrionale, e mentre lei stava in questa vallata, sono quelli che vedete in azzurro qui, i loro villaggi, i loro luoghi di residenza, nello stesso periodo c'erano molte altre forme viventi, c'erano le austropitecine, poco tempo dopo ci saranno anche forme del genere Homo. Quindi, guardate, questa è un'immagine che vi può dire poco, ma in realtà, se vedete che è una semplice vallata, l'ambiente è lo stesso per tutti, nonostante l'ambiente sia lo stesso per tutti, soltanto in quella vallata hanno abitato forme umane, le più diverse, appartenenti addirittura a tre generi diversi. Quindi vedete che la norma nell'evoluzione è la convivenza nello spazio geografico di più forme umane. Questo è un altro personaggio interessante, che è l'austropiteco sediba, è stato scoperto due anni fa, con questo sguardo sorridente, non a caso, perché sono stati trovati i segni della muscolatura che permette il digrignamento e il sorriso. È un austropiteco eccezionale, perché per varie ragioni è stato trovato in Sudafrica ed è giovanissimo, giovanissimo non di età, giovanissimo di datazione. Per questo è un'austropitecina che è vissuta meno di due milioni di anni fa, che è una datazione rivoluzionaria, perché si pensava che gli austropiteci fossero estinti molto tempo prima. Tanto per dirla in modo semplice, questa forma qui ha vissuto insieme con forme del genere Homo, cioè con nostri parenti stretti, per decine di migliaia di anni, insieme con noi, non prima di noi. Quindi è un altro esempio di convivenza di forme umane. Questo è lo stesso schema, questo non è pubblicato, quindi l'ho ricostruito io, è quello su cui stiamo lavorando adesso, questo si legge dal basso verso l'alto, il tempo scorre dal basso verso l'alto, vedete le linee di discendenza delle forme che abbiamo conosciuto oggi, più di 20, addirittura 25 forse, il sediba lo vedete a un certo punto, ve l'ho scritto là sulla sinistra, si colloca in quella posizione lì, quindi vedete, facciamo un esercizio molto semplice, se un extraterrestre fosse caduto sulla Terra due milioni di anni fa, dove vedete due a destra, tirate una linea, la linea del tempo, vedete che sulla Terra abitavano probabilmente una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, forse otto, specie, umane, contemporaneamente, quindi avete una convivenza di una straordinaria diversità di forme. E adesso faccio un salto temporale per fare veloce, e vengo all'oggi, perché a noi poi interessa sapere le storie più recenti, dobbiamo arrivare a capire, a provare a dare una risposta su come nascono i popoli. Adesso fate lo stesso esercizio dell'extraterrestre, immaginatevi un extraterrestre che cade per caso sulla Terra 40.000 anni fa, facciamo per essere più sicuri 50.000 anni fa. Quindi partite dal presente e andate indietro un'unghia, niente, 50.000 anni, a voi sembrano tanti, ma nell'evoluzione sono uno straterello geologico, sono niente. Andate indietro un niente, tirate la linea del tempo e vedete in questa linea che ci sono sopravvissute probabilmente cinque specie umane contemporaneamente. Vedete che c'è Homo sapiens, che siamo noi, c'è quella forma strana di Enisoba di cui vi parlo un attimo adesso, c'è il Neandertal, c'è un'altra forma, Floresiensis e poi c'è un ultimo Erectus sopravvissuto. Questo vuol dire letteralmente che se questo benedetto extraterrestre fosse caduto sulla Terra soltanto 50.000 anni fa, su questo pianeta avrebbe incontrato cinque specie umane contemporaneamente. Per dirla con uno slogan, non siamo mai stati soli, siamo soli come forma umana soltanto da pochissimo tempo. Pensate che il Floresiensis, come vedete là, si è estinto 12.000 anni fa. Quindi fino a 12.000 anni fa, che è praticamente alle soglie della storia. 12.000 anni, non so, partite da, non so, dalle prime civiltà della scrittura o dalle piramidi egizie, andate indietro qualche migliaio di anni e su questo pianeta c'era un'altra forma umana. Quindi vedete che il modello lineare è completamente confutato, ma è confutato oltre ogni aspettativa, nel senso che addirittura fino a tempi molto recenti, e questo adesso dobbiamo spiegare perché, perché non è facile capire cosa diavolo è successo, fino a tempi recentissimi su questo pianeta c'erano tante forme umane. Adesso dobbiamo capire perché c'erano tante forme umane e vedrete che il movimento nello spazio è la chiave fondamentale per capirlo e poi se avremo tempo discutiamo anche del perché siamo rimasti da soli a questo punto, cioè se fino all'altro ieri eravamo in tante forme umane diverse, come mai adesso ci sono solo Homo sapiens in circolazione e ce ne sono così tanti, 7 miliardi, e passa? E come diceva sempre Stephen Jay Gould dovremo cioè porci le due domande che interessano sempre a tutti coloro che studiano l'evoluzione o la osservano da fuori, sesso e morte. Sesso perché naturalmente dovremmo chiederci ma noi ci siamo accoppiati con queste altre forme, morte nel senso dove diavolo sono finite, perché loro si sono estinte, sesso e morte, cercheremo di rispondere a queste due domande. Allora, perché fino a tempi così recenti troviamo una multiformità di specie umane o di forme umane? Perché, e lo abbiamo capito di recente, l'asse interpretativo che mancava era proprio il movimento, il movimento nello spazio, mancava perché non avevamo dati sufficienti, ovviamente, non dico che mancasse perché non avevamo la capacità di guardare, oggi invece abbiamo delle modalità di datazione e di definizione della cosiddetta distribuzione biogeografica delle specie molto più raffinate. E cosa scopriamo? Scopriamo, adesso vi racconto la storia per grandi passi, scopriamo che due milioni di anni fa è avvenuta una prima grande diaspora, la prima grande migrazione colossale che si è avvenuta nella storia dell'umanità. Parlare di migrazione, c'è tutto un dibattito in campo scientifico perché migrazione non è il termine corretto, io lo uso in modo divulgativo perché migrazione si intende un processo intenzionale, cioè le persone che decidono di partire per varie ragioni intraprendono il viaggio di spostamento. Queste non sono esattamente migrazioni, sono espansioni di areale, cioè in pratica sono più lente e sono spostamenti di insediamenti, quindi un accampamento sta in una certa zona, gli abitanti sfruttano il territorio per un certo periodo e poi lo spostano un po' più in là. Però se fate due conti, se voi spostate questo accampamento che ne so, di un chilometro all'anno oppure di un chilometro ogni dieci anni è sufficiente per avere l'effetto migratorio basta moltiplicarlo per qualche migliaio di anni. Questa è una migrazione che è durata probabilmente circa centomila anni e in centomila anni a forza di spostare gli accampamenti tu puoi benissimo partire dal Sudafrica e arrivare in Cina senza nessuna difficoltà. Quindi non è esattamente una migrazione veloce ma è un'espansione di areale. L'hanno fatta le prime forme del genere Homo, sono partite da due punti possibili o dal Sudafrica oppure dalla zona del Corno d'Africa, questa zona è la zona di partenza e poi hanno seguito questi percorsi che noi conosciamo. Li conosciamo oggi perché abbiamo la capacità di rincorrere, di ricostruire le tracce di questi primi movimenti, di questi primi popoli che vi faccio presente non sono popolazioni di Homo sapiens, due milioni di anni fa stiamo parlando di Homo ergaster che è una delle prime forme del genere Homo. L'Homo ergaster arriva, vedete, sale su, probabilmente, anzi quasi certamente seguendo il corridoio del Nilo, quindi segue queste praterie, queste zone particolarmente fertili, sbuca nel Mediterraneo, nel Mediterraneo migra verso Occidente e verso Oriente, entra in Medio Oriente e dal Medio Oriente vedete che segue poi le coste sia verso l'Europa in tempi successivi e soprattutto all'inizio segue le coste e fa questa migrazione verso Oriente e arriva fino in Cina fino a Sumatra e fino a Java. Qui nella parte dell'Asia estrema, dell'estremo Oriente specia, cosa vuol dire specia? Dà origine a una nuova specie che è Homo erectus. In Georgia dà origine a una nuova specie che si chiama Georgicus e in Spagna qui lo vedete poco dà origine a un'altra specie. Fate caso a questa cosa che è fondamentale. C'è lo spostamento fisico a partire da un ceppo originario poi la distribuzione geografica di questa popolazione diventa così grande da far sì che quelli che sono arrivati in Estremo Oriente non riescono più ad accoppiarsi e a comunicare con quelli che sono rimasti in Africa. Questa separazione geografica produce nuove specie cioè da origine a una divergenza evolutiva a uno di quei rami che vi ho fatto vedere prima per cui da quella prima popolazione africana vengono fuori vedete in Europa in Georgia e in Cina tre forme diverse da una popolazione originaria abbiamo quattro forse cinque specie quindi vedete che il movimento nello spazio è generatore di specie produce nuove specie siete partiti da una specie africana e dopo centomila anni duecentomila anni avete cinque specie quattro forse cinque perché forse anche nelle zone di Java Sumata se ne forma un'altra cinque specie del genere omo diverse però questo è solo l'inizio della storia perché poi cosa succede succede che molto tempo dopo 800 mila anni fa circa tra 800 e 750 mila anni fa ci stiamo avvicinando a grandi passi al presente avviene una seconda grande migrazione che è stata identificata soltanto 2-3 anni fa questa seconda grande migrazione avviene come notate ancora a partire dal sempre dallo stesso luogo d'origine tra il corno d'Africa in questo caso molto probabilmente oppure il Sudafrica una delle sono i due areali di partenza più probabili il protagonista di questa seconda diaspora ha un altro nome si chiama Homo Aidelbergensis che è una specie battezzata anche questa da poco la cosa interessante vedete che seguono di nuovo gli stessi percorsi di prima cioè questa forma nasce in Africa di nuovo discendente di quelli che prima erano usciti esce fuori di nuovo ripercorre gli stessi tracciati e va a sovrapporsi come migrazione va a stratificarsi sopra le popolazioni che erano arrivate molto tempo prima e quindi notate che quindi tra l'Europa l'Asia e la Cina si sviluppano già delle stratificazioni migratorie cioè lì arrivava della gente a ondate successive è arrivata una prima migrazione di umani poi arriva una seconda grande diaspora fra l'altro vi faccio notare una cosa queste sono delle mappe che abbiamo fatto fare apposta dall'istituto geografico di Agostini di Novara che sapete che sono tra i più bravi al mondo e hanno fatto anche per la prima volta in assoluto infatti adesso stiamo facendo anche un paper che uscirà su una rivista tecnica su questo hanno fatto il calcolo esatto delle paleocoste che è un calcolo abbastanza complicato ma il discorso è semplice voi sapete che qua siamo nel Pleistocene quindi siamo in una fase di oscillazione climatica i ghiacci avanzano e si ritirano e in queste fasi sapete che il mare si abbassa e si alza come sta succedendo anche adesso allora se voi calcolate il picco di abbassamento del mare che era in circa di 80-85 metri con le profondità i calcoli battimetrici corretti potete ricostruire il profilo di come erano le coste quando il mare era il suo minimo e vedete che nelle fasi di minimo non so tutta l'Indonesia attuale Indonesia Borneo Sumatra Java sono tutte unite in un grande subcontinente non c'è il Golfo Persico c'è metà soltanto del mare Adriatico la Cina la Corea e il Giappone è quasi attaccato l'Australia la Nuova Guinea e la Tasmania sono tutte attaccate in un supercontinente in pratica la morfologia l'Inghilterra vedete l'Irlanda è tutta attaccata la Danimarca alla Svezia e la Norvegia ovviamente sto usando i nomi moderni è interessante questo perché dovete immaginare che queste immigrazioni avvenivano in lunghi periodi appunto di fasi glaciali interglaciali e nelle fasi di minimo della profondità dei mari era possibile partire dal Sudafrica dalla punta del Sudafrica e arrivare alla punta del Sudamerica senza incontrare mai il mare senza incontrare mai una barriera d'acqua quindi praticamente è una situazione abbastanza particolare in cui quasi tutti i continenti tranne il supercontinente australiano erano tutti uniti e questa è la seconda grande diaspora cosa fa la seconda grande diaspora e questo è il punto importante su cui soffermarsi un attimo fa la stessa cosa di quello che era successo prima cioè all'inizio è una specie sola che esce ma poi si distribuisce in tutto il mondo e fa figli cioè genera nuove specie la Heidelbergensis arriva in Europa e genera l'uomo di Neandertal il famoso uomo di Neandertal che sapete che non è un nostro antenato ma un nostro cugino cioè ha avuto una storia indipendente dalla nostra in Asia produce altre specie che in alcuni casi convivono con le specie che erano uscite precedentemente a questo punto si può spiegare un po' meglio la storia questo è l'uomo di Neandertal ve lo faccio vedere per come lo abbiamo costruito nella mostra Homo sapiens che c'è a Roma ancora adesso fino al 9 di aprile è una ricostruzione che vi può sembrare poetica in realtà è fatta con un sistema di morfometria molto preciso per cui si parte dallo scheletro ci si appiccicano sopra i muscoli in base alla massa muscolare prevista dalla consistenza delle ossa poi la pelle il pelo i capelli eccetera quindi questo è l'altereo uno dei nostri altereo discendente di questa seconda diaspora che vi ho appena descritto specie europea pelle chiara capelli chiari una specie adattata all'inizio a un ambiente freddo rigido molto forte tecnicamente molto ben avanzata molto intelligente distribuita su un territorio abbastanza vasto che andava dai monti altai fino alla spagna e al medio oriente un nostro competitor consistente notevolissimo una specie di grande successo che forse addirittura aveva già cominciato ad avere dei comportamenti simbolici cioè aveva già dato inizio probabilmente all'intelligenza simbolica la penna che vedete sui capelli non è un'invenzione ma sono state trovate delle penne di rapaci di uccelli molto belli che loro usavano per abbellirsi facevano una sorta di come i nativi americani questo è un indizio di un comportamento simbolico un'altra ecco questi sono alcuni indizi appunto le penne che vi dicevo esistono possibili c'è la possibilità che avesse anche la capacità di produrre sepolture rituali neandertal ce ne sono state trovate due in medio oriente nel Kurdistan iracheno e poi c'è questo reperto controverso ma molto interessante che pare ormai confermato essere un possibile flauto neandertaliano è un osso di orso molto bello si pensava che quei buchi fossero stati prodotti occasionalmente da dei roditori e in realtà con un sistema di tomografia che si può fare oggi di scansione precisissima sono andati a vedere qual era la conformazione di questi buchi e ci si è accorti che sono stati fatti invece con un strumento con un movimento rotatorio e siccome è stato trovato in un sito sicuramente neandertaliano lì c'è una mano che ha fatto dei buchi regolari in questo osso quindi è un candidato possibile flauto neandertaliano sarebbe una mezza rivoluzione perché sarebbe la prima volta che troviamo uno strumento musicale in un'altra specie non umana scusate in una specie non homo sapiens una forma umana alternativa alla nostra ancora una volta la tecnica è vedere morfologie comportamenti ma poi tornare sempre alla geografia perché ci fa capire un sacco di cose al movimento nello spazio qui vedete l'Europa la parte sempre con queste mappe fatte da Di Agostini con varie calibrature vari focus vari zoom a varie scale vedete la parte in verde chiaro è il territorio abitato dai neandertal in Europa e in Medio Oriente mentre le righe le linee le frecce di spostamento migratorio arancione siamo noi homo sapiens che usciamo dall'Africa molto tempo dopo vi farò vedere i sapiens vedete escono fuori seguono anche loro gli stessi percorsi di tutti gli altri e entrano nel territorio dei neandertal penetrano nel territorio dei neandertal e si insediano nel territorio dei neandertal convivendo insieme con i neandertal per un sacco di tempo e qua entra in gioco il tema che vi ho fatto vedere prima con il cespuglio qui capite com'è possibile che due forme umane nate indipendentemente le une dall'altra vivano insieme convivono nello stesso territorio perché si sono spostate o meglio perché una delle due si è spostata il neandertal è nato qui il ceppo originario probabilmente stava tra la Germania la Francia e la Spagna quindi è nato qui era autoctono noi invece abbiamo avuto origine in Africa ma siamo usciti dall'Africa siamo migrati ancora una volta lo abbiamo incontrato ci siamo insediati negli stessi territori anche qui le coste verso Nizza tutta la Liguria la zona dell'Appennino Toscano in Lazio in Puglia sulle Prealpi nel Veronese tutte zone di convivenza tra Sapiens e Neandertal convivenza palmo a palmo nel senso che proprio hai la vallata non so nel Veronese hai la vallata abitata nei Neandertal e c'è la vallata vicina abitata dai Sapiens quindi una letterale convivenza nello stesso territorio qui vedete uno zoom un po' più largo vedete che il Neandertal era arrivato fino ai Monti Altai fino quasi alla Siberia meridionale vedete che il Neandertal ha un adattamento quasi periglaciale cioè qua vicino praticamente alle zone più fredde mentre noi siamo una specie africana immaginiamoci l'incontro perché deve essere stato interessante lui era una specie abbastanza tarchiata molto robusta con un cervello spiace dirlo più grande del nostro il suo di 100 cm3 mediamente più grande del nostro quindi noi Homo Sapiens non siamo i campioni nemmeno diciamo in termini di materia cerebrale anche se ovviamente conta relativamente conta come la si usa ovviamente la materia cerebrale però il Neandertal aveva questo cranio con questa forma da pallone da regmi mentre noi abbiamo un cranio invece più globulare da pallone da calcio ed era molto grande era una specie estremamente molto adattata quando noi arriviamo ed è questo il mistero su cui stiamo lavorando adesso i Sapiens arrivano e succede una dinamica molto particolare noi per molto tempo conviviamo in equilibrio soprattutto in certe zone soprattutto in Medio Oriente poi succede qualcosa in tempi abbastanza recenti noi prendiamo il sopravvento e cominciamo a marginalizzare sempre di più i Neandertal la cosa che non riusciamo a capire per ora è cosa ha portato a un certo punto i Sapiens a diventare così invadenti quando prima non lo erano non lo erano stati un altro protagonista che vi faccio che vi presento perché anche questa è una storia molto bella è un'altra specie umana si chiama Homo floresiensis è sempre un altro discendente della seconda diaspora questo invece è nato in Asia orientale Neandertal vi ricordo una specie europea e questa è una storia incredibile perché stando alle ricostruzioni più plausibili che abbiamo oggi è andata così praticamente in queste diaspore di questa gente che arrivava in Medio Oriente scusate in Estremo Oriente alcuni sono scesi giù lungo Sumatra e Java quando il mare era basso questi potevano spingersi anche nelle isole successive Bali Lombok sapete tutta quella linea di isole che arrivano fino a Timor-Est e poi da Timor-Est c'è il salto da fare verso l'Australia queste antiche migrazioni queste diaspole sono arrivate fino a Flores che è un'isola lì in mezzo stretta e lunga e lì probabilmente si sono fermate nel senso che quando sono arrivate lì il mare nel frattempo si è alzato e una piccola popolazione è rimasta sull'isola di Flores non è più riuscita né andare nell'isola successiva né a tornare nell'isola precedente è rimasta bloccata lì circa 800-750 mila anni fa che è un sacco di tempo questa piccola popolazione è rimasta su quell'isola e ha avuto un processo ha subito un processo adattativo selettivo ben noto che si chiama nanismo insulare nanismo insulare vuol dire in pratica che si diventa più piccoli questa è una cosa tipica che si vede in molte specie a sangue caldo nelle isole piccole se tu sei grande e hai un metabolismo veloce molto esigente e ti ritrovi in un ambiente ristretto la selezione naturale favorisce il tuo rimpicciolimento perché ti riproduci con un ritmo maggiore e hai bisogno di meno risorse quindi è un grosso vantaggio adattativo sapete in Sicilia c'erano elefanti nani in Sardegna c'era un mammut nano piccolissimo e questo è tipico di molti processi nelle isole qui però è la prima volta che lo vediamo in una specie umana la cosa però incredibile di questo floresiensis qua vedete l'albero filogenetico proposto su Nature vedete che è un discendente di una specie asiatica di un erectus guardate vedete come è diventato piccolo in proporzione il cervello diventa molto piccolo il floresiensis ha una massa cerebrale leggermente più grande di quella di uno scimpanzè però attenzione questo è interessante non è il cervello di uno scimpanzè è il cervello di un uomo che si è rimpicciolito proporzionalmente se diventi più piccolo diventa più piccolo anche la scatola cranica e diventa allometricamente tutto più piccolo e uno un uomo con un cervello così piccolo aveva per lungo tempo la stessa tecnologia di noi sapiens quindi è stato sfatato un altro mito che associava sempre grande cervello grandi tecnologie piccolo cervello tecnologie più arretrate qui c'è piccolo cervello tecnologie molto avanzate però il fatto più sconvolgente di questa scoperta sono ancora una volta le datazioni Floresiensis stava su quell'isola diciamo probabilmente da molto tempo prima vedete quella linea tratteggiata che c'è su Nature ma i reperti che noi conosciamo su quell'isola da Liang Bua questa grotta dove abbiamo trovato nove individui vanno da 90.000 a 12.000 anni fa 90-12.000 anni fa che è una datazione recentissima in pratica questa è una specie quasi moderna è vissuta poco tempo fa da 90.000 anni fa su quell'isola fino a 12.000 anni fa c'era un'altra forma umana non sappiamo perché si è estinta 12.000 anni fa sappiamo di sicuro anche se non ci sono prove dirette che ci siamo incontrati perché ci siamo incontrati perché gli Homo sapiens sono arrivati in Australia circa 45.000 anni fa e o passavamo da lì o passavamo dal Borneo da Sulawesi non c'erano altre possibilità oppure abbiamo fatto entrambi i percorsi quindi è molto probabile che i sapiens prima di arrivare in Australia siano passati dall'isola di Flores e quindi abbiano praticamente vissuto insieme sulla stessa isola però anche qui notate questo dato interessante se noi siamo arrivati in Australia molto tempo prima 50.000 anni fa vuol dire che siamo passati di lì e non li abbiamo estinti subito perché se loro sono sopravvissuti fino a 12.000 anni fa vuol dire che non siamo stati noi ad estinguerli direttamente questo è un dato sconcertante perché invece ci aspettavamo di trovare che ovvio arriva i sapiens figurati noi grandi bravi eccetera li estinguiamo subito invece no arriviamo conviviamo andiamo oltre e loro restano lì ancora per 12.000 ancora per un sacco di tempo fino a 12.000 anni fa tra l'altro su quest'isola ho dimenticato di dire che il nanismo insulare ha un complementare che è il gigantismo insulare se sei una specie troppo piccola piccola e hai dei predatori ti conviene diventare più grande infatti su quell'isola ci sono omini alti il floreziense era alto 1,05 quindi più piccolo dei pigmei africani di adesso e cacciava questi topi di 1,5 di lunghezza si cibava di questi topi è stata trovata una cicogna alta 1,85 quindi è un'isola che sembra una storia di Gulliver di Jonathan Swift perché ci sono omini piccoli gli animali con tutte le proporzioni sfasate sembra una storia da Giacobbo Voyager invece è una cosa seria ed è successo realmente diciamo nell'evoluzione umana allora qui vedete la ricostruzione che abbiamo fatto nella mostra e ora spero che sia chiaro che questa immagine che vedete qui per l'ultima volta non ha semplicemente nessun senso fino a poco tempo fa c'erano cinque forme umane è chiaro che è cambiato completamente il modello di riferimento l'ultima specie umana che vi presento e poi in pochi minuti parlo di Homo sapiens prima di chiudere anche questa è una storia incredibile e anche sul piano metodologico questa è una storia importante da raccontare perché vi fa capire come si lavora oggi in ambito evoluzionistico questa è una grotta la grotta di Denisova che si trova sui monti Altai che vi ho citato anche prima è una grotta importante perché è una grotta in cui sapevamo già che i sapiens e i Neandertal avevano vissuto insieme non proprio insieme nella stessa grotta nel senso che in certi periodi ci abitavano i sapiens e in certi periodi ci abitavano i Neandertal e quindi quando gli scienziati tedeschi in questo caso del Max Planck di Lipsia sono andati in questa grotta hanno tirato fuori un piccolo una piccola falange un piccolo ossicino di un mignolo di un reperto pensando che fosse un Neandertal conventissime e visto che in questa grotta ha un ottimo grado di conservazione perché è fredda si sono seppelliti con poco ossigeno l'hanno portato all'Ipsia e hanno fatto il sequenziamento del genoma sapete che oggi si può fare se il reperto è ben conservato e non è più vecchio diciamo di 100.000 anni se sei fortunato puoi con questo sistema di amplificazione tirar fuori il DNA mitocondriale prima e se sei ancora più bravo tirar fuori anche il DNA vero quello del nucleo delle cellule e quindi puoi avere la sequenza del genoma a partire da un piccolo frammento di osso non è Jurassic Park nel senso che non è che puoi clonarli perché sono dei frammenti di DNA che si mettono insieme e puoi permettere di ricostruire le intere parti del genoma di una specie estinta quando hanno fatto questo esercizio è venuto fuori un risultato sconcertante perché si è scoperto che quel mignolo lì aveva il DNA che non era sicuramente né di Sapiens né di Neandertal e questo ovviamente ha suscitato un certo sconcerto perché di chi diavolo era quel mignolo sono stati fatti tutti i controlli incrociati possibili in pratica quel mignolo appartiene a un'altra specie umana mai identificata prima che è stata provvisoriamente chiamata Omo di Denisova perché è l'unico posto in cui l'abbiamo trovata per ora poi dopo sono stati trovati dei denti anche altri piccoli frammenti di questa specie misteriosa è vissuta in quella zona lì insieme con le altre due quindi tre specie umane vivevano in questo territorio che era molto ricco e fatto anche questo abbastanza interessante quando poi gli scienziati tedeschi sono tornati nella grotta e hanno guardato dov'era lo strato in cui avevano trovato quel mignolo la datazione è di 40.000 anni recentissima anche questa quindi è una specie di Omo molto antica probabilmente ancora più antica del Neandertal ma che è sopravvissuto in questo territorio fino ancora una volta a tempi recentissimi quindi vedete come il quadro si è complicato tantissimo allora adesso sesso e morte cioè dobbiamo darci una risposta sulle due questioni più morbose che ci interessano sempre che fine hanno fatto tutti quanti il Neandertal il Floresiensis il Denisova così sono i denti dei Denisoviani beh che fine hanno fatto tutti quanti in realtà non lo sappiamo non lo sappiamo perché vi ripeto il modello è strano abbiamo convissuto con loro per un sacco di tempo e poi noi siamo diventati successivamente più invadenti l'ipotesi su cui stiamo lavorando oggi è questa che i Sapiens siano usciti dall'Africa più volte cioè non soltanto una volta e che uscendo a più ondate in una delle ondate successive siano usciti dei Sapiens più aggressivi demograficamente cioè più espansivi più invadenti potremmo dire e questi Sapiens che scherzosamente Iantate sarà chiamato Sapiens 2.0 questi Sapiens 2.0 uscendo fuori portano all'estinzione tutte le altre forme umane l'ipotesi è interessante ma ovviamente manca un pezzo cioè perché questi Sapiens 2.0 sono diventati così invadenti e poi rispondo se riesco alla fine la stessa domanda peraltro ce la possiamo fare che fine hanno fatto tutti quanti anche per molte specie non umane le cosiddette megafaune questi mastodonti che abitavano in Australia e nell'America perché c'è una strana coincidenza nelle stesse date in cui scompaiono tutte le altre forme umane scompaiono anche tutti questi mastodonti il sospetto è che ce li siamo mangiati tutti cioè il sospetto è che li abbiamo cacciati noi e che in particolare siano stati estinti da una delle ultime ondate di Sapiens fuoriusciti dall'Africa e adesso in pochi minuti parliamo di Homo Sapiens e provo a rispondere alla domanda come nascono i popoli alla luce di tutto questo quadro di riferimento allora come nascono i popoli e cosa succede con Homo Sapiens l'avrete già capito questo è il modo con cui abbiamo iniziato la storia nella mostra Homo Sapiens di Roma con una donna incinta con queste fattezze che abbiamo preso dalle popolazioni coisan dalle popolazioni dei cacciatori raccoglitori della parte meridionale dell'Africa perché perché questi Sapiens cominciano a fare delle cose strane pitture rupestri come queste che non troviamo in nessun'altra forma umana un flauto questo sicuro flauto di 38.000 anni fa molto antico trovato in Germania ricavato da un ossicino di un uccello di un avvoltoio una cosa meravigliosa con tutti i fori superiori un piccolo foro inferiore e nella mostra di Roma se andrete a visitarla sentirete quando c'è questo reperto che è esposto sentirete una musica nella sala la musica nella sala è fatta con un calco di questo flauto quindi dei musicisti tedeschi hanno provato a suonare questo flauto ed è venuta fuori quella musica che sentite che è molto melodiosa molto piacevole lui il protagonista il personaggio è questo qua questa è una ricostruzione che è uscita su Science ve la faccio vedere perché è impressionante vedete che questo primo Sapiens 160.000 anni fa noi siamo nati in Africa probabilmente 200.000 anni fa è noi è importante guardare queste immagini perché praticamente siamo già noi non c'è stata nessuna evoluzione fisica anatomica successiva significativa questo qui lo guardi negli occhi ed è uno di noi guardate anche il collo e il cranio come si è alzato questa forma globulare queste vertebre più allungate nel collo l'apertura dello spazio della laringe della faringe questo parlava chiaramente ed era uno di noi eppure antichissimo allora era uno di noi però c'è un dato che voglio farvi notare che è interessante questa è una slide che mi ha passato Guido Barbugliani che è un genetista bravissimo italiano ora se voi guardate questa slide vedete una cosa un problema che non è solo per l'uomo l'essere umano rappresentato come nostro tipo ideale che vedete sotto ma qual è il problema fondamentale è che se voi osservate tutte le forme umane più strettamente vicine a noi oranghi gorilla e scimpanzee notate una cosa sorprendente il loro genoma è molto più ricco ed è molto più diversificato al suo interno del nostro il nostro genoma è molto uniforme e le differenze genetiche medie nella nostra specie tra due esseri umani qualsiasi sono bassissime come si spiega questo perché sono così basse il modo con cui lo si spiega è in questa immagine che è un po' difficile ma ve la descrivo probabilmente è la vera rivoluzione metodologica su cui lavoriamo oggi guardate tutte queste freccine blu e queste freccine gialle questa è la ricostruzione dei possibili flussi migratori a più ondate dei sapiens fuori dall'Africa per farmi capire è la terza grande diaspora cominciata circa 120.000 anni fa è andata a sovrapporsi questo è il punto cruciale a quelle precedenti in pratica noi sappiamo siamo di nuovo usciti dall'Africa tra l'altro una cosa incredibile ripercorrendo anche noi gli stessi tracciati migratori di tutti i nostri cugini più vecchi siamo usciti fuori e ovviamente uscendo fuori li abbiamo incontrati abbiamo incontrato gente che stava lì da un sacco di tempo perché perché discendeva dalle diaspore precedenti quindi vedete che il modo di ricostruire l'evoluzione umana è oggi tutta giocata in chiave geografica biogeografica diaspore movimenti migrazioni convivenze ibridazioni eccetera allora i popoli in sostanza il mosaico di base della diversità umana nasce da questi movimenti uscite dei primi sapiens a più ondate occupazione prima dell'Asia fino all'estremo oriente poi dell'Europa poi dopo degli spazi più freddi e vedete che poi ci sono le ultime migrazioni che portano gli esseri umani in Australia e guardate tutte le linee in alto esseri umani che ultima grande epopea entrano in Nord America e occupano Nord America e Sud America quella australiana un'eopopea cominciata 50.000 anni fa quella americana un'eopopea cominciata circa 25-30.000 anni fa di questo vi parlerà senz'altro Cavallis Forza anche oggi pomeriggio se andrete a sentirlo queste linee blu e arancione sono linee ricostruite attraverso il DNA rispettivamente mitocondriale e del cromosoma Y cioè la linea femminile e la linea maschile che è la metodologia che ci ha insegnato proprio Cavallis Forza una piccola notazione interessante il corridoio di uscita dei Sapiens probabilmente non è stato solo il Nilo ma noi siamo usciti a più riprese anche da qui questo è lo stretto di Djibouti lo stretto di Bab el-Mandeb che è sempre stato con dell'acqua dentro cioè non si è mai non si sono mai unite la penisola arabica e l'Australia perché è più profondo di 100 metri ma era così stretto da poter permettere di vedere dall'altra parte di poter andare facilmente dall'altra parte e qui si sono ritrovati degli accampamenti vecchissimi da una parte e dall'altra nello Yemen che dimostrerebbero che noi siamo passati anche di lì uscendo fuori e siamo passati in piccoli gruppi vedete la diversità genetica umana ha un picco massimo il picco pur essendo bassissima se voi ci guardate dentro le popolazioni dei cacciatori raccoglitori africani del Sudafrica sono quelle che hanno un pochino più di variabilità di diversità genetica di tutti gli altri e questa è una prova bellissima del fatto che tutti noi siamo venuti fuori da un ceppo originario che era più strettamente imparentato con loro quindi loro con ogni probabilità sono quelli più vicini che hanno mantenuto un legame più stretto con il gruppo di partenza di tutti gli esseri umani e poi guardate anche questo altro dato che è di Cavallis Forza stesso una delle sue ultime scoperte una delle più eleganti una volta che voi avete trovato il picco di diversità genetica in Sudafrica allontanandovi geograficamente da quel punto la diversità genetica diminuisce progressivamente con il suo minimo in Australia e in Sudafrica in Sudamerica praticamente questa è la traccia genetica delle migrazioni umane noi siamo partiti da quel punto lì e poi di piccolo gruppo in piccolo gruppo ci siamo spostati sempre di più sempre di più siamo migrati ci siamo espansi con piccoli gruppi andando a occupare prima tutto il vecchio mondo poi anche l'Australia e poi le Americhe e oggi tu puoi trovare una traccia genetica elegantissima una corrispondenza perfetta tra la distanza geografica dal punto d'origine l'Africa centro-meridionale e il luogo in cui tu sei arrivato e la distanza genetica quindi distanza genetica e distanza geografica coincidono vedete con una percentuale molto molto significativa ve lo faccio vedere in un altro modo per chiarezza guardate le parti rosse noi partiamo da lì a più riprese usciamo fuori uscendo fuori guardate gli altri colori incontriamo territori abitati da altre popolazioni umane conviviamo con loro e poi arriviamo solo noi fino a prova contraria in Australia e nelle Americhe e ora c'è la questione del sesso naturalmente oltre che della morte nel senso che che fine hanno fatto tutti quanti è un punto ancora aperto mi aveste fatto questa domanda invece sulla questione del sesso due anni fa anche questa sembrava una questione chiusa in realtà così chiusa non era perché? perché il sesso lascia una traccia se ha avuto anche un effetto riproduttivo una traccia genetica se noi ci siamo accoppiati con queste altre forme umane nel nostro genoma dovrebbe esserci una traccia dei loro geni fino a due anni fa questa traccia non era mai stata trovata anche perché indagavamo soprattutto il DNA mitocondriale ma quando abbiamo imparato a tirar fuori da queste ossa il DNA invece del nucleo delle cellule del genoma vero completo abbiamo fatto una scoperta abbastanza sconcertante nel caso dei neandertal in particolare si nota che tutti noi sapiens noi qui presenti che non abbiamo avuto un'origine direttamente africana quindi tutti i non africani contengono una percentuale di DNA neandertaliano che ha influenzato circa il 4% del nostro genoma cioè vuol dire che nel nostro genoma di sapiens c'è una piccola percentuale che è stata influenzata da genoma neandertaliano che contiene delle sequenze tipicamente neandertaliane a questo punto l'idea invece che non ci fossimo accoppiati viene messa in discussione da dove perché abbiamo noi solo i non africani hanno una traccia neandertaliana l'ipotesi che si fa è questa in pratica quando noi abbiamo cominciato a uscire dall'Africa abbiamo incontrato i neandertal in Medio Oriente soprattutto e poi anche in Europa però per più lungo tempo in Medio Oriente forse in Medio Oriente nella prima fase di convivenza ci siamo accoppiati cioè i sapiens e i neandertal potevano fare sesso accoppiarsi avere dei cuccioli vivi sani non solo ma questi cuccioli potevano a loro volta questi ibridi avere dei figli ecco perché potrebbe essere rimasta questa traccia neandertaliana perché non c'è niente negli africani perché non sono quelli che hanno incontrato nella loro espansione fuori i neandertal poi i neandertal si estinguono i sapiens hanno una grande espansione demografica ma mantengono una traccia di questa ibridazione parziale provvisoria che è durata probabilmente poche migliaia di anni in Medio Oriente fra l'altro c'è un fatto intrigante siccome questa traccia si trova solo nel DNA del nucleo che è fatto dal papà più la mamma ovviamente e non si trova nel DNA mitocondriale che è di linea soltanto femminile Cavallis Forza giustamente ha fatto 2 più 2 e quindi se venisse confermata questo modello vorrebbe dire che gli accoppiamenti erano asimmetrici cioè sempre papà neandertal e mamma sapiens il che è abbastanza strano perché a parte che noi maschietti ne usciamo distrutti perché ci facciamo fregare le donne da circa 80.000 anni ma in generale è una cosa abbastanza strana a parte che le femmine presenti non so avete visto il neandertal di prima ma vabbè questo gusti però diciamo è una cosa strana perché un accoppiamento asimmetrico deve trovare una spiegazione di tipo sociale di organizzazione sociale che ora non abbiamo però questo è il dato a disposizione e poi c'è traccia anche di ibridazione con i denisoviani però guardate che questa se venisse confermata è veramente una scoperta sensazionale perché vuol dire che nemmeno il nostro genoma è interamente nostro e che il nostro genoma contiene come un mantello di arlecchino tracce di altre specie umane che peraltro ci hanno fatto bene perché hanno rinforzato il nostro sistema immunitario finisco vedete questa è l'ultima epopea la nascita dei popoli australiani con queste opere meravigliose queste pitture rupesti questi graffiti fantastici sono passati probabilmente da Timor Est oppure da Sulawesi sono entrati in Australia e hanno dato origine al ceppo umano degli aborigeni australiani la stessa cosa avviene nelle Americhe e dà origine al ceppo dei nativi americani del Nord America e del Sud America è probabile che anche in questi casi ci sono state più ondate successive non soltanto un ingresso unico quindi vedete questa è l'ipotesi della final wave noi partiamo da lì ci espandiamo in tutto il mondo e in una delle ultime migrazioni che probabilmente è quella che si porta dietro dei sapiens con il linguaggio con il linguaggio articolato quella è stata la nostra arma segreta che ci ha dato un grande vantaggio anche demografico il linguaggio articolato permette non soltanto quello ma in generale una rivoluzione comportamentale che porta all'intelligenza simbolica fa sì che questa ultima migrazione abbia un successo demografico strepitoso per cui letteralmente da 25.000 a 7 miliardi nel senso che ho dimenticato di dirlo prima ma il gruppo lo sappiamo anche questo dalla genetica il gruppo che uscì dall'Africa la prima volta non poteva avere più di circa 20-25.000 individui quindi immaginatevi è come se tutti i 7 miliardi di esseri umani di oggi venissero fuori da una parte dei carruggi di Genova tanto per inteso un quartiere di Genova tutti gli esseri umani che vengono fuori da un gruppo di 20-25.000 individui ovviamente di questo io faccio solo un accenno ne parlerà immagino Cavallis Forza oggi pomeriggio avete immagino capito ormai intuitivamente molto evidente che una ricostruzione di questo tipo che ti porta a vedere Homo sapiens come una specie in movimento con un'origine unica africana molto recente a partire da un gruppo molto ristretto significa letteralmente che quelle che abbiamo sempre chiamato razze umane non esistono non possono esistere proprio fisicamente perché non c'è stato il tempo sufficiente per separare le popolazioni umane in cosiddette razze umane quindi oggi nella scienza prevale ormai direi in modo definitivo l'idea che la stessa parola razza umana va abolita dal vocabolario della scienza bisogna parlare di popoli di individui perché il succo il grande motore dell'evoluzione non sono le razze che non esistono ma sono gli individui è il singolo individuo che è il portatore della diversità e quindi tutti i parenti tutti i differenti tra l'altro oggi con la promiscuità e gli accoppiamenti i matrimoni misti e tutte le modalità che noi abbiamo di scambiare i geni a livello globale a maggior ragione nemmeno in futuro potrà succedere che si sviluppino le razze umane perché quelle hanno bisogno di un lungo isolamento geografico che ormai è diventato impossibile vi lascio ovviamente con un invito visto che l'ho citata un paio di volte non c'è più tanto tempo ormai per vederla a Roma ma se per caso fate una gita a Pasqua a Roma fino al 9 di aprile la mostra Homo sapiens è ancora a Roma e poi però se non fate in tempo a vederla dalla metà di settembre in avanti andrà a Trento non è tanto vicino qua però un po' più vicino dalla metà di settembre fino a gennaio del 2013 ho finito grazie 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 grazie